Ciao a tutti e bentornati a The Icons, il nostro appuntamento con le foto più iconiche della storia della fotografia. Io sono Francesco Morosino e sono pronto a presentarvi una fotografa veramente straordinaria in questo appuntamento di oggi. Questa fotografa si chiama Saramun, però Saramun non è il suo vero nome, è un nome d'arte. Questa fotografa infatti nasce in realtà come modella di moda, prima di tutto, col nome Marielle Wanin. Questo è il suo nome originario, diciamo, il suo vero nome è questo. Ma poi si è sempre più appassionata alla fotografia fino a diventare una fotografa di moda e diventare la fotografa di moda che ha un po' rivoluzionato il modo di concepire la fotografia di moda. Poi si è staccata dalla fotografia proprio di fashion e è arrivata più alla fotografia artistica, quindi è diventata una fotografa puramente d'arte. E poi si è dedicata molto anche al video con sia delle pubblicità che anche dei film, c'è anche un suo documentario su Henri Cartier-Bresson. Quindi è veramente un artista a tutto tondo. E io oggi vi farò vedere una serie di immagini proprio per vedere il suo percorso. E ci concentreremo però soprattutto sulla parte più artistica, che è quella che poi a me piace di più. Quindi vi farò vedere delle foto veramente veramente molto particolari. Non perdiamo altro tempo in chiacchiere, cominciamo subito con le immagini di Saramun. La prima immagine che ho scelto per voi è questa, ed è una fotografia del 1999. Si chiama From Behind, da dietro. E vedete già quanto è particolare lo stile di Saramun. È una foto che potrebbe essere a metà strada tra la fotografia di moda e la fotografia artistica. Saramun lavora molto con la fotografia analogica, quindi lavora non soltanto con la pellicola, ma lavora proprio anche andando a modificare la pellicola, andando ad agire sulla pellicola. Spesso creando degli effetti sul negativo, andando a manipolare il negativo. Insomma, veramente delle robe interessantissime. Lavora anche molto con la Polaroid, quindi va anche a modificare la Polaroid. Insomma, da questo punto di vista, tecnicamente è ineguagliabile nella capacità e nella varietà di stili e di tecniche che utilizza. E in questa foto vediamo proprio questa commistione, questo fatto dell'analogico che entra dentro la foto stessa. Quindi vediamo proprio i margini, rimane proprio la sensazione della pellicola, di come la pellicola sta scattata. E vediamo proprio la grana di questa fotografia molto molto forte. Ed è una foto, come vi dicevo, che è proprio a metà strada tra fotografia di moda e fotografia artistica. E sembra anche grafica, perché vediamo questi segni, questi numeri, queste frecce. È veramente difficile da decifrare. Sembra quasi di vedere qualcosa di finto, una scenografia, un modellino, qualcosa di non realistico. E questo la rende veramente, veramente bizzarra e interessantissima, secondo me. Lei è di spalle, questa modella è di spalle. Quindi non sappiamo lei cosa sta pensando, che cosa sta guardando. Però probabilmente sta osservando questi segni, quindi si chiede anche lei questi segni, che cosa vogliono significare appunto. E quindi non ci dà qualcosa per decifrare questo mistero. Anzi, noi siamo, come lei, spettatori di questo mistero. Quindi non solo lei è misteriosa, ma anche lei sta guardando un altro mistero ancora. E quindi tutto questo rende veramente bizzarra questa immagine. Ci fa venire voglia di seguire queste frecce e di andare di là, vedere che cosa c'è di là. Ma non lo sappiamo, dobbiamo immaginarlo. E quindi questo la rende una foto veramente straordinaria, secondo me. Il secondo scatto che ho scelto, anche questo è in analogico. E anche qui vedete come la pellicola, la lastra che lei ha utilizzato per fare questa foto, entra dentro l'immagine, diventa parte dell'immagine. Sembra quasi che si stia sciogliendo sotto, quindi è molto divertente. E qui è un'immagine di un pavone. Il titolo d'immagine è Bagatelle del 1989. E è un pavone, noi siamo abituati a vedere i pavoni per i loro colori sgargianti. Quindi il blu del pavone è un colore incredibile, bellissimo. Ma in questa foto non c'è. In questa foto manca questo colore. Ed è un difetto di questa foto? No, perché invece secondo me è proprio un vantaggio. Il fatto che non ci sia il colore blu ci fa concentrare molto di più sulla texture della foto e sulla geometria del pavone stesso. Quindi ci fa veramente vedere meglio questa raggera di piume, questi occhi che ci sono sulle piume del pavone. Ci fa concentrare su questo, perché il colore spesso è una distrazione. Ci dà un'emozione così forte, un'informazione così forte, il colore, che ci fa distrarre dal resto. Quindi la fotografia in bianche e nero ha questa caratteristica, di farci concentrare di più su determinate caratteristiche di quello che sto osservando, soprattutto quando si parla di geometria di forme. E qui questa foto veramente ci fa concentrare sulla geometria del pavone, soprattutto perché lo sfondo è molto scuro. Quindi il pavone viene molto, molto in avanti, lo sfondo rimane più indietro. E sullo sfondo però ci sono un po' questi fiori, queste foglie, che comunque ci danno un tocco di chiaro in questo scuro. Quindi ogni cosa sembra veramente al posto giusto. C'è un bellissimo equilibrio di luci e di ombre, di toni chiari e di toni scuri in questa immagine. E veramente mi ha colpito perché il pavone, nonostante non abbia i suoi colori, è comunque bellissimo in questa foto e secondo me questo la rende una straordinaria foto in bianche e nero. Però Sarah Moon è anche molto conosciuta per le sue foto a colori. Per lei il bianche e nero è legato a un mondo delle emozioni legato più alla mente, quindi ci rimanda a qualcosa di mentale. Invece il colore è più legato alle emozioni più vive, più reali, più forti. E quindi le sue foto a colori anche sono incredibili. Ed è diventata conosciuta molto anche per questo con le sue foto di moda a colori. Vi faccio vedere questa immagine, come prima della serie a colori che ho scelto, che è molto molto particolare, è un'immagine del 2001, l'angelo nello studio, ed è incredibile la sensazione che ci dà. Intanto c'è da dire che Sarah Moon scatta spesso sfocando, quindi le sue foto non sono a fuoco. E non è soltanto un spediente estetico per creare qualcosa di più emotivo, no, lei dice che proprio in realtà lei è miope, quindi non vede le cose a fuoco, non vede la realtà a fuoco, quindi è un modo per riprodurre la sua realtà. Anzi, lei racconta che all'inizio della sua carriera lui diceva ma questa foto non è a fuoco, e lei diceva ma che vuol dire non capisco, perché lei non aveva mai portato gli occhiali, in realtà per lei la realtà era davvero così, era davvero sfocata, quindi è veramente interessante come cosa da scoprire. E quindi in realtà un'immagine sfocata non è per forza un'immagine sbagliata, anzi può darci delle emozioni, può suggerire qualcosa di diverso, ci può portare verso un mondo forse anche un po' più pittorico, perché tutti i colori un po' si mescolano, soprattutto quando si usa la fotografia analogica, la sfocatura è molto interessante. E qui ne vediamo un esempio, vediamo questa immagine che non è nitida. Abbiamo di nuovo una donna di spalle, una cosa che noto adesso, non avevo notato quando ho scelto le immagini subito, però questo vuol dire che il mio subconscio ha creato un legame tra le immagini, neanche non volendo, c'è anche un legame tra il volo, perché abbiamo il pavone e le piume. Questo è molto interessante, perché quando scelgo le immagini, le scelgo all'inizio con qualcosa che mi piace, qualcosa che mi stimola delle emozioni, e poi cerco comunque di trovare una coerenza, ma non sempre volutamente, a volte capita per caso, come in questo caso appunto, ed è veramente molto interessante anche per me. Comunque tornando all'immagine, vedete qui c'è una strana scenografia che non capiamo bene, sembrano più delle macchie di colore, sembra quasi un collage questa foto, non sembra qualcosa di realistico, ma è molto interessante proprio vedere questa donna di spalle con queste ali appese dietro, che sembra quasi che stiano per cadere, quindi sembra quasi che lei se ne stia liberando, ha una posa molto rassegnata potremmo dire, forse perché ha provato a volare, ma ha visto che non riesce davvero a volare, perché non sono delle leve reali, chi lo sa, e questo sfondo così, con questi colori che fanno contrasto, ci rimanda a dei toni molto caldi, mentre invece lei ha dei toni molto freddi addosso, come vestiti, quindi è un bellissimo contrasto cromatico, ed è un mix secondo me di fotografia e di pittura, quello che legherei in questa immagine, ed è straordinario, come poi vedremo anche nelle altre. Per esempio in quest'altra qui, vedete anche questa molto bella, la band dei piedi del 1998, quindi la lavanda dei piedi, è delicatissima, veramente molto delicata come immagine, questi toni così pastello, questi piedi immersi nell'acqua, questo forse palloncino sospeso nell'acqua, chi lo sa, questa sfera nell'acqua molto misteriosa, molto strana, e poi la scelta di questo pavimento, con questa sorta di scacchiera colorata, insomma anche a livello cromatico, è bellissima, ed è veramente molto delicata, e anche qui la sfocatura crea una delicatezza in più, una sensazione veramente bellissima, veramente un'immagine straordinaria, secondo me anche questa qui. E in ultimo ho scelto una, che è una delle mie preferite in assoluto, mi piace tantissimo, questa qui del 1998, il tucano è fantastica, una geometria bellissima, è riuscita a rendere un omaggio al tucano, potremmo dire, questo uccello poggiato su questo cerchio, con questo becco così giallo di lato, e questi puntini neri, e poi sotto c'è questa sorta di, a me sembra proprio, un pezzo di quelle decorazioni, che si mettono alle feste, le luminarie delle feste, quindi buttata lì, tipo un pezzo da circo, anche nera con questi puntini, insomma, richiama un po' il cerchio, richiama un po' anche la forma del tucano, e dietro invece questo sfondo così rosso, così forte, su cui il nero contrasto, il giallo contrasto, insomma, ha dei colori, delle geometrie bellissime questa foto, e quindi è proprio un omaggio a questo uccello, e lo rende incredibilmente interessante, veramente protagonista, di questa scenografia così bella. la trovo un'immagine che è sia pittorica, che scultoria, che fotografica, insomma, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, che cosa volete di più in questa immagine? E lei, e Sarah Moon, è così, fa queste foto così meravigliose. Quindi avete visto un'artista fantastica, che veramente riesce a utilizzare il bianco e nero, e il colore in maniera incredibile, mischiando i toni, mischiando la geometria, la pittura, la scultura, mescolando le arti, quindi creando qualcosa di completamente nuovo. E certo è che lei ha rivoluzionato veramente il mondo della fotografia, con le sue foto artistiche, e anche le sue foto di moda. E lo vedete, adesso l'avete capito perché, avete capito quanto sia interessante, anche l'idea di poter andare un po' controcorrente, quindi di poter scattare in maniera diversa dagli altri, dire, ok, ma io la foto la voglio fare sfocata, perché questo è il mio modo di rappresentare la realtà, per me questo è quello che voglio esprimere, così posso comunicare meglio le emozioni, e lei ha il coraggio di andare controcorrente, e ha creato delle immagini straordinarie. Spero che vi sia piaciuto questo incontro con Sarah Moon, vi aspetto al prossimo episodio di The Icons, le foto più iconiche della storia della fotografia. A presto, ciao!